In questa prima esigenzione qui sono i ragazzi del Fanny Center di Zoppola che ci presenteranno una baciata su con le mani, forza Sospings, Sospings Permovi, baciata mi busqueda ha terminato ora che mi amor lo ha incontrato estes qui delante de mi por favor te vas a liberar mi busqueda ha terminato ora che mi amor lo ha incontrato estes qui delante de mi per favore lo ha incontrato ora che mi 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 si E se in te non puoi non seguirei via l'amore E se in te non puoi non seguirei via l'amore E se in te non puoi non seguirei via l'amore E se in te non puoi non seguirei via l'amore E se in te non puoi non seguirei via l'amore E se in te non puoi non seguirei via l'amore E se in te non puoi non seguirei via l'amore E se in te non puoi non seguirei via l'amore E se in te non puoi non seguirei via l'amore E se in te non puoi non seguirei via l'amore E se in te non puoi non seguirei via l'amore Grazie ragazzi, un applauso ancora ai ragazzi del Fanny Center di Zopola. Grazie.